Per il progetto di intervento del POR Puglia 2014-2020, interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, dal 2019 ad oggi sono stati realizzati e terminati i lavori di ingegneria naturalistica nella riserva naturale di popolamento animale Salina di Margherita di Savoia nella zona evaporante di Salpinuovo in località San Vito. L'area interessata tra Zapponeta, Margherita di Savoia e Trinitapoli rientra nel complesso delle zone umide del Golfo di Manfredonia e l'area dichiarata già nel 1979 zona umida di importanza internazionale. Un primo obiettivo è la conservazione della specie di interesse comunitario, migliorati anche il sentiero per raggiungere la località e gli strumenti di controllo. Il sindaco Emanuele Losapio ha commentato Quello per Salpinuovo è un progetto innovativo che valorizza in modo ecosostenibile le nostre biodiversità e il paesaggio naturale, mostrando queste nostre ricchezze ad una platea sempre più ampia. E questa è la direttrice turistica che stiamo seguendo, puntando sulle risorse paesaggistiche, ma anche culturali, archeologiche, gastronomiche e agricole del nostro territorio.